Nella splendida e suggestiva Cornice di Casteltirolo si è rinnovato l'appuntamento con la consegna delle onorificenze a personalità residenti al di fuori dei confini provinciali che hanno acquisito meriti particolari nella crescita dell'Alto Adige. A fare gli onori di casa il presidente provinciale Luis Durmbalder, affiancato dall'intera giunta, quest'anno sono state otto le onorificenze assegnate. Noi siamo piccoli e se noi vogliamo difendere i nostri diritti abbiamo bisogno di amici, di sostenitori, quelli che ci accompagnano e perciò è anche giusto qualche volta dire grazie. Il primo a ricevere l'ordine di merito è stato Richard Agraiter, originario della Bohemia, artista e scultore, che ha ceduto la sua collezione al Museo Mladin a Castel de Tor, poi è stata la volta del trentino Renato Ballardini, ex presidente della Commissione Affari Costituzionali, nonché membro della Commissione dei 19, che elaborò il pacchetto di proposte che portò al secondo Statuto d'Autonomia. Ordine al merito anche a Gaetano Gifuni, assente perché impegnato all'estero, ha ricoperto la carica di segretario generale della Presidenza della Repubblica. È stata poi la volta di Helmut Krizinger, nato nel 1928 a Sarentino, insegnante giornalista dal 2002 al 2008, è stato membro del Bundesrat austriaco, che ha guidato come presidente nei primi sei mesi del 2008. Premio anche a Herbert Neumeyer, nato nel 1932 a Kornenburg, giurista dal 1978 al 1997, è stato responsabile dell'ufficio stampa del governo di Vienna. Onorificenza anche per Franco Pasar Giklian, nato a Milano nel 1951, esperto del settore della protezione civile. Premio anche per Claudio Riesen, nato nel 1953 a Davos in Svizzera, avvocato e stato due volte presidente del comitato esecutivo dell'Argealp. Premio anche per Carla Scoz, nata a Trento, giurista dal 1995 al 2000 e nei primi mesi del 2007, è stata commissario del governo della provincia di Bolzano. Onorificenza anche per Ludwig Zack, nato nel 1934 a Ebersbrun, teologo nel 1967, è entrato nell'associazione Kolping, trasformandola da normale associazione di categoria all'attuale moderna federazione sociale. Infine, il premio delle minoranze, con una dotazione finanziaria di 20.000 euro, è andato alla FUEV, l'Unione Federalista delle Comunità Etniche Europee.